Sono 1821 le persone che nell'ultimo anno nelle Marche sono rientrate nelle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016, a 5 anni dal terremoto, però restano ancora oltre 16.000 i cittadini che avevano dovuto abbandonare il centro del cratere sismico. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa sul tema la nuova fase della ricostruzione. Sono aumentate del 36% le pratiche presentate, di oltre l'80% quelle decretate e delle 63,1% quelle concluse. Le Marche, ricorda la regione, hanno subito il 61% del danno complessivo derivante dal sisma, che ha coinvolto anche Abruzzo, Lazio e Umbria, comprendendo il 40% del territorio regionale, tre province e 86 comuni. Quattro invece le richieste più importanti indirezzate al governo centrale, la proroga del super bonus 110%, il nuovo preziario sisma, la proroga del credito d'imposta per le imprese e un maggiore coinvolgimento nel PNRR. Diciamo che il bonus 110% ha una rilevanza importante, è una variabile che può consentire alla ricostruzione di non fermarsi e ripartire veloce e continuare il suo svolgimento in maniera agile, oppure ricreare un collo di bottiglia che potrebbe rischiare di ribloccare tutta la fase di lavori e di procedimenti che erano stati già avviati. Anche perché in questa fase, insieme alla ricostruzione privata e pubblica, c'è la necessità di far ripartire la ricostruzione socio-economica di un territorio, ci sono le risorse col PNRR e Sisma, c'è il CIS, ci sono altre iniziative di natura regionale, la nuova programmazione europea, c'è sicuramente tanta carne a fuoco, ma che se non le mettiamo tutte insieme rischiano di essere comunque scollegate e disconnesse. Per poter tornare a vedere questi territori realmente popolati e attrattivi, dobbiamo consentire a chi sceglie di vivere o già vive in quei territori, di poter conservare un livello che sia uguale a tutti gli altri. Enorme e inaccettabile ha giunto il Presidente il gap infrastrutturale, la Regione intanto sta rafforzando l'ufficio speciale della ricostruzione integrando l'organico con 20 tecnici e amministrativi per velocizzare le procedure di gara. Quindi quello che fino ad oggi è stato un ufficio che produceva decreti, approvava progetti di privati, deve cambiare modo di lavorare, deve muoversi in modo da poter affiancare le amministrazioni pubbliche, poter fornire progettazioni, consulenze, complementi di studi urbanistici, fare appalti per andare in soccorso delle amministrazioni e tutto sommato orientarsi verso quella che è la realizzazione materiale delle opere. Inoltre ci sono progetti di rigenerazione socio-economica per 100 milioni di euro e il piano scuole proposto al Commissario Legnini sono 52 i plessi marchigiani nelle aree colpite dal sisma che saranno finanziati ex novo con circa 141 milioni di euro. L'assessore Castelli poi ha parlato di macerie, di carenza di imprese edili e dell'aumento dei prezzi delle materie prime. 4.200 tonnellate sono le cosiddette macerie private, stiamo lavorando d'intesa con la struttura commissoriale su due versanti, cercare di semplificare le norme e ci vuole l'aiuto dello Stato per quanto riguarda la possibilità di usare quegli aggregati riciclati per il tombamento delle cave, abbiamo tante cave, sarebbe davvero secchioso del principio di economia circolare usare il materiale del terremoto per rinaturalizzare questi ambienti. In secondo luogo creare piazzole di stazionamento che possano essere utilizzate, magari zone che sono agricole e debitamente autorizzate per far sì che possano essere depositi temporanei di materiali, perché il problema è ora e non c'è tempo da aspettare.